Il risultato è stretto in virtù di questa gara perché abbiamo avuto sicuramente delle ottime occasioni. Qualcuno è anche clamoroso come sul 3-1 quella di Muriel che è stato bravissimo il portiere a salvarla con la punta. Quindi dobbiamo essere molto soddisfatti di questa prestazione anche se il risultato potrebbe essere un po' più largo ma abbiamo incontrato una squadra forte, indubbiamente pericolosa e sappiamo che la qualificazione è tutta da giocare. Io credo che il portiere è stato indubbiamente bravo, bisogna dare merito anche all'avversario. In qualche altra occasione la palla è sfilata anche per pochissimi centimetri fuori oppure per pochissimi centimetri non ha raggiunto il compagno che può taffar gol. Ma questo è il calcio, abbiamo creato però molte situazioni pericolose, abbiamo fatto tre gol. Dobbiamo essere molto soddisfatti di questa partita. Questo sarà poi il tema della gara di ritorno. È chiaro che noi dovremmo stare attenti e non lasciare spazi a loro perché hanno dimostrato di essere veloci. Nello stesso tempo non dobbiamo neanche abbassarci troppo perché loro hanno la tecnica al limite dell'aria per poter fare dei gol. Abbiamo visto come hanno segnato il primo gol. Io credo che sarà una partita non preventivabile ancora sul piano tattico. È chiaro che abbiamo due risultati però non possiamo difendere solamente. Dovremmo essere capaci di fare una grande prestazione per uscire da quel campo. Lui non stacca mai perché è chiaro, lo vediamo, è sempre al telefono, è sempre che riceve, che vuole sapere, che riceve notizie, che si attiva per cercare degli aiuti in tutti i modi. E devo dire che in questo è straordinaria anche la squadra. E' chiaro che, insomma, questa è una cosa pesante. E' pesante per me che, come ho detto in qualche conferenza prima, trovo questa situazione molto più pesante di quello che è stato il Covid, che è durato due anni. E anche per me sono preso continuamente dalle notizie. Figurati per lui, che è così coinvolto con familiari, amici. Il bello del calcio è che magari gli può regalare un sorriso, gli può regalare un momento di serenità. Però è chiaro che questa è una situazione pesantissima per noi, figuriamoci per lui.